Altre giornate infernali, quelle del primo weekend di luglio, contrassegnate dai disagi tra code chilometriche e rallentamenti, anche nel tratto vibratiano della 14 al confine con le Marche, percorso principalmente dai turisti che raggiungono le località della Riviera. Condizione quella delle lunghe code che sta portando problemi anche nei tratti cittadini lungo la SS16, visto che molti automobilisti decidono di uscire dall'autostrada per evitare le code e poi si ritrovano imbottigliati nel traffico costiero. Una vera e propria piaga, quella della viabilità che sta recando anche danni ingenti agli operatori turistici della zona. La situazione della 14 è stata devastante per il turismo, in realtà il nostro tratto è completamente bloccato, la statale 16 è completamente devastata, il traffico turistico ha subito dei danni veramente enormi, con cancellazioni, con clienti che telefonano per disdire i pranzi e soprattutto telefonano per disdire le prenotazioni o cercare di cambiare il giorno delle prenotazioni. In ogni e qualsiasi caso l'immagine turistica del Terramano e dell'Abruzzo intero ne esce devastata. C'è il dramma anche per la viabilità dei comuni della costa? Sì, la viabilità è diventata impossibile, passare sulla statale 16 nei pressi di Martinsicuro, anche di così in particolare, è veramente impossibile. Questo si riverbera sul buon lavoro dei cittadini, ma soprattutto in questo periodo in cui dovremmo dare il massimo per la nostra accoglienza turistica, in realtà abbiamo colpevolmente dato del nostro peggio perché sarà impossibile spiegare ai turisti perché questi lavori non sono stati fatti a marzo piuttosto che non all'aprile, in un anno di lockdown e sono stati aperti a giugno con termine 9 luglio. Come se non bastasse, è fitto il calendario delle chiusure notturne che interesserà la 14 nei prossimi giorni, che comporteranno inevitabilmente una nuova emergenza per il traffico pesante, deviato sulla statale 16. Preoccupano per due motivi. Primo, per le conseguenze del traffico che ci sono sempre, perché il traffico turistico si sposta anche di notte, e soprattutto anche per l'effetto mediatico, perché chi parte da Milano, dalla Svizzera o dal Piemonte non va a guardare l'orario, capisce che c'è un problema sull'autostrada, cerca di non passarci o va in un'altra destinazione.